Eh no, eh no, eh no, questa cosa va chiarita, va chiarita una volta per tutte, perché mi è stato detto, sì vabbè però le tue lezioni, sì sono interessanti però quando leggi il libro sei un po' noioso eccetera, non sono i miei alunni a dire questo, ecco però volevo spiegare che questo è il ripasso per i miei alunni, la roba che sto facendo adesso, la lezione in quanto tale la trovate sempre sul mio canale YouTube con appunto la proiezione delle immagini, quella è la mia vera lezione, in questo caso io semplicemente preparo il ripasso perché i miei ragazzi possano prepararsi per la verifica o per l'interrogazione, questo è il concetto, che poi aggiunga degli aneddoti, delle cose, delle notizie in più rispetto al libro, quello ci mancherebbe altro certo, ecco però non vi meravigliate se il resto della lezione è appunto abbastanza barboso, ecco sicuramente lo dico io stesso che è barboso leggere sul libro, che schifo, è una cosa orribile pensare che ancora tantissima gente fa lezione leggendo sul libro, no dai per favore, si deve sganciare un attimo, poi però il libro serve, il libro serve perché si studia sul libro, non bastano le immagini, non basta aver filmato, non si fissano nella memoria determinate situazioni, determinate cose, se non si studia proprio sul libro e si ripete ad alta voce, si ripete ad alta voce, sempre con le proprie parole, se no non si impara, sono tre le fasi dell'apprendimento, ascoltare, studiare, ripetere. Quindi c'era un'altra cosa che volevo dire, ma la ricordo più, sì c'era una canzone che diceva notte prima degli esami, notte prima degli esami, questa invece è la notte prima della gita, gita Ravenna, per riuscire a preparare il materiale, insomma ci mettiamo qua e lavoriamo. Quindi pagina 185 del vostro libro, qui parlo ai miei alunni, però ovviamente chiunque può anche seguire, cioè manca il libro, come cavolo fai a seguire, insomma un po' di fantasia, un po' di fantasia e immaginazione, mi ricordo più, c'era un'altra canzone che diceva fantasia e immaginazione. Vabbè, l'ora è un po' non aiuta. Dunque, pagina 185, paragrafo 10, il razzismo e le leggi contro gli ebrei. Allora, molti provvedimenti presi dal governo di Mussolini già nella seconda metà degli anni 20 vi erano riferimenti al concetto di razza, ma doi, tutta Europa era già così. Fu però solo dalla metà degli anni 30 del 900 che l'ideologia fascista assunse un carattere esplicitamente razzista. ideologia fascista, ideologia fascista, vi ho già detto, ho spiegato, che non esiste in realtà una vera e propria ideologia fascista, uno schema filosofico di pensiero. Dapprima furono introdotte norme che discriminavano, anzi diciamo che l'ideologia fascista è nata dopo il fascismo, ok? La teoria è nata dopo l'applicazione di determinati ideali, valori o disvalori, a seconda delle vostre opinioni, ovviamente. Ok? E quindi è un'ideologia che ha seguito i fatti, non i fatti che hanno seguito un'ideologia come avviene per il comunismo, Marx è un filosofo di tutto spessore, insomma di grande spessore, o come il nazismo, ok? Allora, dapprima furono introdotte norme che discriminavano i cittadini africani, poi nel 37 diventavano 20 diversi, diventavano 20 diversi, dal 37, 37, cioè dopo la guerra d'Etiopia, nel quale si sottoneva l'esistenza delle razze, guardate che il concetto di esistono le razze è un concetto che ancora oggi, voglio dire, è quanto meno discusso, ma un sacco di gente dice, certo che esistono le razze, non sono dei deficienti o degli ignoranti che lo dicono. Per cui, ecco, è la necessità che il governo fascista si dichiarasse razista, va bene. Tra il settembre e il novembre del 38 il governo fascista introdusse una serie di leggi dette leggi razziali che penalizzavano i cittadini italiani in religione ebraica, espulsi dalle scuole statali, licenziati dagli impieghi pubblici, impedito loro di svolgere molte attività lavorative e memorizzate, perché sarà nella verifica questa domanda. Gli ebrei italiani sono sempre sentiti parte della nazione italiana, molti avevano preso parte al risorgimento, appoggiato all'entrata in guerra nella prima guerra, anche all'interno del partito fascista vi erano diversi ebrei, sottolineato, è vero, assolutamente, allora uno come fa a essere antisemita, un fascista semita, non ha molto senso se è appunto ebreo. Di colpo furono trasformate in persone legalmente inferiori al resto della popolazione, è vero? Però vi ricordate che c'erano anche le scappatoie, ok? Si erano inventate delle scappatoie per, appunto, come dire, non essere così persecutori, è sicuramente una cosa molto negativa, sotto tutti gli aspetti, perché non è bello discriminare le persone, ecco, però se ricordatevi che siamo sempre in Italia, quindi le cose troppo estreme non sono mai piaciute. Allora, dovrebbe essere rimasto licenziato? Ah, sì, sì, ovada, ovada era un fascista ebreo, per esempio. Dunque, che cosa non ha fatto il libro? Il libro non ha parlato dell'Africa orientale, cioè, o meglio, ne parla dopo, però non mette in connessione l'Africa orientale c'è la conquista dell'Etiopia con le leggi razziali, e invece è un errore, perché le leggi razziali, mi raccomando, segnatevelo in tutti i modi, sono una conseguenza della politica estera fascista, ok? Allora, perché se fosse stato già di partenza razzista, nel senso ideologico del termine, perché tutta la società europea era razzista all'epoca, gli ebrei erano mal visti da tutti, fondamentalmente, se non salvo qualche piccola, c'erano pregiudizi a nastro, ok? Allora, se fosse stata ideologicamente razzista come vale per il nazionalsocialismo, beh, allora le leggi antisemite sarebbero state applicate nel 22, 23, 24, non nel 37, 38. E poi abbiamo il discorso di Bari del 1936, segnatevelo che vi ho fatto vedere in classe, chi non l'avesse visto, se lo vado a cercare, il discorso di Mussolini a Bari nel 1936, in cui dice, noi guardiamo con sovrano disprezzo certe ideologie d'oltrealpe, ecco, se faceva riferimento al nazismo nel 36, Mussolini dice, disprezzo per il nazismo, ok? Questo è il messaggio. Quindi, che caro di cosa stiamo parlando? Ok, bene, bene, adesso abbiamo ristabilito un po' di verità, ok? E lo dico per amore della verità, non perché ho, ovviamente, come si può dire, simpatie politiche, le mie simpatie politiche ci sono, non c'è dubbio, ma questa è la realtà dei fatti. Allora, e non sono simpatie politiche per il fascismo? Chiaro. Allora, pagina 194, abbiamo saltato un po' di paginette, pagine inutili o quasi, leggeteve se volete, sempre cose interessanti. Negli anni 20, o la politica esterofascista, giusto, rimase fedele all'alleanza con inglesi e francesi, questo periodo di sforzi si concentrò nella riconquista della Libia. Iniziata nel 22, ottenuta con metodi brutali, rappresaglie, esecuzioni sommarie, deportazioni, ho fatto vedere le immagini con i patrioti libici impiccati, ok? Morti di migliaia di libici. Dagli anni 30, il governo fascista modificò la politica estera, una posizione molto più aggressiva, l'espansione in Africa e nei Balcani, sia economiche, sia dell'ideologia fascista che esaltava la guerra, l'imperialismo, sia la necessità di accrescere il consenso per l'economia della grande crisi, insomma, per i malcontenti della popolazione. Quindi, conquista dell'Etiopia l'impero italiano. Perché conquista l'Etiopia? Allora, per due ragioni, ecco, ecco, allora due ragioni. Quindi, terra per i disoccupati, segnare, scrivere, scrivere, terra per i disoccupati e ragioni di prestigio internazionale. In un certo modo per vindicare la sconfitta di Adua del 1896, se non vado errato, 96, 97, 96 dovrebbe essere. Venne quindi deciso di invadere l'Etiopia, la cui occupazione è tentata verso la fine, appunto l'ho ben detto. La guerra iniziò nel 35 e si concluse nell'anno successivo, nel 36. La resistenza etiopia di filo da torcere l'esercito italiano. Vero, anche perché, oh, gli etiopia erano armati dagli inglesi e dai francesi, chissà perché. E poi c'erano anche le armi tedesche, che erano vendute, per questioni, appunto, economiche. Quindi, l'alleanza con i tedeschi, poi danno del traditore agli italiani. Mamma mia, non è tutto vero, non è sempre così. Noi italiani dovremmo essere un po' più consapevoli, che non siamo, come dire, gli ultimi babai. Allora, la resistenza è filo da torcere, anche perché dicevo, armi, armi vendute dagli altri, e poi il problema delle strade. Mancavano le strade, quindi abbiamo dovuto costruire le strade man mano che l'esercito avanzava. Riuscì a vincere per la netta superiorità di mezzi e uomini, aerei, carri armati, vi ho fatto vedere, ok? Ma anche perché massicciamente è usato i gas asfissianti, vietati dalle convenzioni. Adesso ve l'ho detto. Allora, per decenni si è negato l'uso dei gas, stupidamente, perché non si deve negare la storia, ok? Adesso invece si va dall'altra parte e dice, ah, uso dei gas, indiscriminato, eccetera. In realtà vi ho già spiegato che i gas erano usati per bloccare le avanzate o per stanare dai nascondigli, dai boschi, appunto, gli etiopi. E' bello usare i gas? Ovviamente no. E' bello attaccare l'Etiopia? Non ho detto questo, non è quello, diciamo, il succo del discorso. Il succo del discorso è la conoscenza. Poi ognuno si fa le proprie opinioni. Nonostante bla bla. Dopo la conquista di Addis Abeba, sì, c'è una canzone che fa Addis Abeba, conquista prodigiosa d'Italia. Allora, Mussolini proclamò che dopo secoli Roma aveva di nuovo il suo impero. Vi ho fatto sentire la video, no? Roma, Roma, il suo impero! E infatti usa le stesse identiche parole. Evidentemente l'autore di questo libro ha sentito la dichiarazione. Per stroncare gli ultimi focolai, repressioni sistematiche, tra questi il colpevole fu il generale Rodolfo Graziani, che ebbe poi un ruolo nella seconda GM, ebbe un ruolo nella Repubblica Sociale Italiana, ebbe un ruolo nel Movimento Sociale Italiano, partito erede dell'ultimo fascismo. partito della Repubblica Italiana, per non dire il dopoguerra. Il governo fascista organizzò repressioni sistematiche tra le popolazioni sfatti. Sto Graziani è sempre esaltato, è sempre stato esaltato dalla destra, ma in realtà secondo me era un incompetente, poi abbastanza crudele, visto il risultato. infatti strage di tutti i monaci del convento di Debrali-Banos, è venuto da 1500 morti, cioè 1500 frati hanno fatto fuori, è tantissimo, è una cosa vergognosa. Considerate, ricordatevi che l'Etiopia è un paese cristiano da secoli, da sempre, dal 300 d.C. Allora, quali sono le conseguenze? Conseguenze, lo scrivete grande così, con una casa, conseguenze. Le prime conseguenze meno importanti, ma comunque di un certo rilievo, sono spese pazzesche, hanno speso un mucchio di soldi, e poi l'uso di armi, armamenti che sarebbero state utili nella seconda GM, e terzo, ok, ho detto ok, che noia, il terzo è, come dire, gli automezzi, i camion e i automezzi che rimangono in Etiopia, anziché poter essere utilizzati in Africa settentrionale o in Russia, come sarebbe stato opportuno durante la seconda guerra mondiale. Ma la conseguenza principale è quella della pagina dopo, l'alleanza con la Germania di Adolf Hitler. La Società delle Nazioni, che era la specie dell'ONU che c'era dell'epoca, condannò l'invasione italiana e decise alcune sanzioni economiche. Oggi sappiamo tutti cosa sono le sanzioni. E che peraltro non vennero, non furono, non furono, perché dicono vennero, non vennero applicati, non furono applicati. Esiste il verbo essere in italiano, non è il verbo venire. La condanna internazionale, Francia e Gran Bretagna, fu utilizzata dalla propaganda per far credere alla popolazione che l'Italia fosse perseguitata. Ciò accrebbe sicuramente la popolarità. Mussolini si allea con la Germania, guidata da Adolf Hitler, bla bla bla, aveva diversi punti in comune con quella fascista. Hitler ammirava molto Mussolini, aveva organizzato il partito sperando se è quello fascista, però Mussolini aveva paura di fida di Hitler perché diceva questo qua non è a bolla, perché temeva che un eccessivo rafforzamento della Germania avrebbe danneggiato gli interessi italiani. Nel 1936 si firmò un trattato di alleanza chiamato Asse Roma-Berlino, a cui seguì nel 1939 la firma del patto d'acciaio per entrare in guerra nel caso l'alleato avesse deciso di farlo. Bene, che cosa non hanno detto qui? Non hanno detto un sacco di cose interessanti. Allora, la prima cosa interessante è che la giustificazione diciamo così di Mussolini riguardo a queste sanzioni fu ma scusa, ma perché ci danno le sanzioni? Perché ci impongono queste sanzioni? Non è mica giusto. Perché Francia e Gran Bretagna ci impongono queste cose? Eppure non ha la Francia il suo impero coloniale? Sì. Non ha il Regno Unito il suo impero coloniale? Sì. E allora perché l'Italia non deve avere il suo impero coloniale? Benissimo. E infatti di fronte a questa domanda gli italiani risposero e che cavolo Mussolini ha ragione perfino gli antifascisti non tutti ovviamente persino molti antifascisti diedero ragione a Mussolini e dissero che cavolo ha ragione è bello attaccare un'altra nazione? No. Però il concetto è ma perché loro sì e noi no? Quello è il concetto su cui si basava la propaganda e che molti italiani accettarono come valido perché all'epoca ovviamente un secolo fa non c'era il principio di oh Dio non si possono attaccare non si può fare la guerra non si può qua non si può là ecco cioè è un altro concetto quindi segnatevelo scrivetelo il reduce raggiunge il massimo l'apice l'acme del no acne no acne con la n quella acne è quella della pelle ok? Acme la cima acme acutus acidus acer acer ok? acme in greco acontizzo cioè vuol dire ti prendo a giavellotti a dardi ac indica sempre acuto qualcosa di punta aces l'aces la schiera le spade appilate quindi dicevo l'acme raggiunse l'acme del consenso tutti e viva Mussolini Mussolini ha ragione ha ragione ha ragione e per combattere contro la crisi economica creata in un certo modo dalla crisi del 29 e in seguito anche delle sanzioni anche se furono applicate in realtà furono applicate per qualche mese abbiamo la come cavolo si chiama l'oro alla patria segnatevelo ok? gli italiani erano così convinti che Mussolini aveva ragione che decisero di come si può dire decisero di regalare loro alla patria la fede nuziale ad esempio la medaglia da senatore la medaglia di guerra e compagnia bella vi ho già detto che gli italiani erano abbastanza furbi da fare fare una copia della fede di nozze e regalare la seconda copia tenersi quella originale però comunque regalano oro mucchi d'oro e ve l'ho fatto vedere bene qui accenna la riga quinta sesta insomma che l'ideologia nazista va a diversi punti comuni con quella fascista a parte che abbiamo detto che l'ideologia fascista non esiste in quanto tale non è uno schema precedente a priori però ci sono appunto delle somiglianze e differenze e qui è il momento giusto per scrivere le somiglianze e differenze tra le tre ideologie della dittatura di massa massa perché appunto riguardano le masse di popolazioni e totalitarismi perché riguarda la totalità della vita del cittadino allora quali sono le somiglianze tra comunismo nazismo e fascismo la base socialista e in un certo modo il principio dei cittadini tutti uguali in fin dei conti ok l'uguaglianza sociale ecco mettiamola così quali sono le differenze tra comunismo da una parte e nazismo e fascismo dall'altra quindi scrivete ovviamente potete rallentare e fermare quando volete il comunismo è cosmopolita quindi vuole abolire confini vi ricordate proletari tutto il mondo unitevi disse Marx mentre invece gli altri due sono nazionalisti quindi invece i confini li vogliono e come no li vogliono non solo difendere ma anche espandere il patriota difende i propri confini ok ama la propria patria ma non disprezza quell'altrui il nazionalista adora la propria patria la ama da tal punto da considerarla migliore di tutte le altre quindi le altre siano inferiori e non degne della stessa considerazione questa è la differenza diciamo tra patriota e nazionalista però vabbè stavo uscendo da seminato stavo dicendo ah sì confini confini ok no ai confini per i comunisti sì ai confini da espandere per gli altri due e poi economia a livello economico quindi molto semplificando il comunismo vuole un'economia guidata non solo guidata dallo Stato ma proprio statale quindi i mezzi di produzione agricola e industriale appartengono allo Stato cioè i terreni e le fabbriche per capirci e semplificare invece secondo il fascismo e il nazismo ci può essere la proprietà privata ma lo Stato deve poter mettere becco nell'economia ma deve poter guidare l'economia anche con aziende statali ad esempio di armamenti o altro quindi ecco e poi a questo punto la differenza che c'è tra fascismo è nazionalsocialismo notate bene nazionalsocialismo allora la differenza fondamentale è che mentre il nazismo è basato sul diritto germanico di sangue basato sul diritto germanico basato sul sangue che schifo è diciamo si fonda mi piace? è fondato sul diritto germanico che è basato sul sangue il diciamo il principio invece il fascismo è basato sul diritto romano ok è fondato sul diritto romano basato non sul sangue ma sulla legge ok quindi che cosa è il risultato che per un nazista uno straniero rimane straniero perché figlio di stranieri punto non me ne frega niente di dove è nato non me ne frega niente di che cittadinanza è considerato comunque straniero invece secondo i principi adottati del fascismo anche se tu sei di sangue differente di nazionalità di provenienza differente nel momento in cui diventi per un qualunque motivo cittadino italiano sei cittadino italiano a tutti gli effetti punto ok ecco perché il persecuzione degli ebrei è un qualcosa che stride che stona in fin dei conti il risultato qual è che mentre il nazismo tende alla estromissione alla esclusione del diverso ok esclusione che poi diventerà l'eliminazione del diverso ma questo già durante la guerra non prima se non nel caso dei malati di mente che vedremo nel fascismo invece abbiamo la assimilazione del diverso cioè la italianizzazione ad esempio delle minoranze slovene o dei tedeschi dell'alto adige ai quali viene offerto di o andarsene fuori dai piedi in austria previo pagamento delle proprietà oppure se decidono di rimanere in italia devono imparare l'italiano usare l'italiano e italianizzarsi il più possibile questo era il messaggio alcuni cognomi ad esempio non si arrivò a delle cose assurde però ad esempio minoranze slovene gli sloveni furono incoraggiati a cambiare il cognome allora queste sono le differenze come avete visto rispetto alle immagini che ho propriettato e rispetto alle immagini che vi ho dato stampate noi partiamo dall'inverso cioè abbiamo parlato della come cavolo si chiama aiuto della politica estera fascista prima del nazismo ecco ma voi siete delle persone come si può dire capaci di operare questi passaggi senza troppi troppa fatica ma guarda andiamo a pagina ma che bella foto quando si parla di razzismo l'American way of life ecco qua vedete un manifesto pubblicitario una famigliola felice su un'automobile una famiglia di bianchi e chi fa la coda certo anche bianchi ma qui sono tutti negri sono tutti afroamericani vi ricordo che la parola negro non è dispregiativa in italiano per chi sa usare l'italiano per chi conosce l'italiano ok quindi evitiamo il politicamente corretto allora vedete sono tutte persone sono tutte afroamericani perché non ci sono bianchi lì in mezzo ma perché forse in America c'era il razzismo vi ricordate il Ku Klux Klan vi ricordate le manifestazioni contro il razzismo negli anni 60 che non è tanto tempo fa hanno la mia età queste manifestazioni quindi quando si parla di razzismo di democrazia eccetera eccetera stiamo bene attenti gli Stati Uniti erano uno dei paesi più razzisti e in certo verso lo sono ancora in certi punti in certi posti quindi andiamo con ordine gli americani avevano l'idea del WASP white anglo-saxon protestant quindi gli italiani erano considerati di serie B per esempio allora pagina 217 avete il riassunto proprio degli anni 20 degli anni ruggenti della crisi della borsa del 29 la crisi economica per la sovrapproduzione il new deal di Roosevelt che porta all'intervento dello Stato nell'economia e quindi con opere pubbliche che non solo danno il lavoro danno il lavoro ma anche come si può dire creano delle infrastrutture necessarie per il rilancio dell'economia poi a pagina 223 inizia a parlare della Repubblica di Weimar ok dal nome della cittadina tedesca se non sbaglio dove fu approvata alla Costituzione va beh questo è un sacco di cose interessanti però noi insomma c'era un gran caos anche lì c'è stato il biennium rosso in Italia e in Germania insomma abbiamo più o meno la stessa zuppa e vediamo invece pagina 225 ok comincia appunto il discorso della difficoltà della Repubblica di Weimar e la ascesa del nazismo totalitarismo nazista ok eccolo qua allora vediamo un po' dai per arrivare alla mezz'oretta ancora dieci minuti ce la facciamo ce la facciamo forse sì forse no non lo so forse vale la pena fare il nazismo tutto insieme che dite ragazzi sì dai facciamo il nazismo tutto insieme ce la possiamo fare perfetto allora mi interrompo qua carico il filmato la lezione intanto registro l'altra buono studio perché voi studierete